Nadia Toffa colpita da un grave malore, l'inviata delle Iene in terapia intensiva Cosa è successo a Nadia Toffa? L'inviata delle Iene colpita da un malore a Trieste. Grave malore per la conduttrice e inviata delle Iene Nadia Toffa. La 39enne si è sentita male mentre si trovava a Trieste, a farlo sapere il piccolo e la Repubblica. Nadia si è sentita male nella camera di albergo dove alloggiava in questi giorni, subito è stata soccorsa e portata in ambulanza all'ospedale di Cattinara, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Stando alle prime indiscrezioni, la Toffa sarebbe ricoverata con prognosi riservata in gravi condizioni. Non sono note le ragioni per cui Toffa al momento si trovasse in città. Grazie per la visione!